buongiorno ragazzi un po di tempo fa ho sostituito la mia frizione della brutale 1090 r con una frizione della f4 1000 rr quindi oggi voglio farvi vedere lo smontaggio e rimontaggio e ovviamente le differenze tra le due frizioni frizione normale e frizione antisaltellamento lo faccio veloce non parlerò della tecnica ma bensì soltanto del montaggio altrimenti verrebbe un video abbastanza lungo quindi preferisco più fare far vedere lo smontaggio e rimontaggio e indicarvi i pezzi quindi partiamo subito quando voi aprite il carter troverete questa situazione qui dovete mollare i perni che mantengono le molle vi ripeto questa è una frizione normale prima di tutto prima di smontare vi consiglio sempre vabbè in questo caso voi andrete a sostituire da frizione normale a frizione antisaltellamento quindi il simbolo il segno non ha senso farlo però se dovete cambiare i dischi frizione il segno ha senso basterebbe un pennarello in qualcosa colorato e indicare la posizione in maniera da ritrovarlo quindi andremo a levare la flangia spingi disco e andremo a levare i dischi ovviamente fate attenzione i dischi non sono tutti uguali i dischi frizione non sono tutti uguali ci sono tre tipologie vi faccio vedere ovviamente segnatevi anche la posizione normalmente sulla sul disco c'è un simbolino un marchio un un numerello quindi diciamo che io preferisco metterli tutti sullo stesso diciamo posizione in maniera da avere una certa simmetria anche perché se c'è un numerino vuol dire che dove devono essere messi in una certa posizione quindi andremo a levare il disco ovviamente voi la troverete in questa posizione quindi aiutatevi con un cacciavite a tirare fuori i dischi io per semplicità giro ed escono tutti quanti ok troverete in maniera alternata dischi frizione e dischi conduttori li troverete in maniera alternata quindi una volta tirati i dischi fuori e rimessi tutti uno sopra l'altro ok ora sono a me risultano mischiati perché io l'ho già fatto il lavoro quindi li ho messi come sono venuti e faccio vedere la posizione corretta troverete il mozzo porta porta dischi con queste scanalature qui in più troverete all'interno ovviamente il perno il che ferma tutta la campana e il mozzo porta dischi ok quindi una volta mollato dovete levare anche la rondella vi troverete in questa situazione ok con anche questa rondella all'interno ecco qua questa va rimessa la posizione è differente ok ora perché ho fatto un cambio questa è la campana questa è la campana della frizione f4 1000 rr perché non l'ho sostituita perché è diversa il componente anche da monografia porta un numero differente mentre per gli altri componenti è uguale alla brutale 1090 rr mentre questo cambia qualcosa sicuramente nel numero di denti quindi evitiamo di fare pasticci e manteniamo il rapporto finale identico anche potete anche levarlo e verificare anche il cuscinetto è vedete bene arrivati a questo punto se dovete sostituire solo i dischi di frizione allora quelli nuovi vanno messi a bagno nell'olio quindi lasciati per un po di tempo una volta presi e scolati vanno riposizionati quindi verificate ovviamente se ci sono danni nel mozzo portadischi verificate se ci sono scannalature strane o quant'altro o difetti andate a controllare anche la campana la corona fate una pulizia eventualmente ok una bella pulizia rimettete la il mozzo portadischi rimettete la rondella rimettete il dado ma prima di mettere il dado ricordatevi che da monografia porta di mettere una frena filetti medio sulla flettatura del dado ok medio andrete a stringere a 140 newton il dado per stringere c'è una chiave vi faccio vedere anche la foto che si inserisce nelle gole qui e poi si stringe in maniera che mantiene ferma la campana e voi potete anche stringere ovviamente è meglio farle in due perché uno mantiene l'attrezzo l'altro tira con la chiave dinamometrica fino a 140 che non è poco è un bel po' poi successivamente quello che vi dicevo prima ci sono tre tipi di dischi il normale quello con il diametro più grande è quello con i componenti di attrito più larghi ok nella brutale R va messa prima quella con il diametro più grande vediamo il numero come vi dicevo prima sta qua il numero mettiamo tutti il suo stesso numero poi ci sono importantissimo vengono chiamate molle o rasamenti di cui uno flat quindi piatto e l'altro con una curvatura la curvatura va verso il motore quindi mettiamo prima quello flat quello piatto e l'altro con la curvatura ok iniziamo ad alternare ok gli anelli conduttori i dischi conduttori con i dischi normali quelli nuovi ok chiaramente il numero facciamo riferimento al numero e rimettiamo sempre la stessa posizione e ultimo andremo a mettere la frizione con il materiale d'attrito più largo quindi ovviamente ripetiamo avremo messo il primo disco con il diametro più grande poi un'alternanza di dischi conduttori con otto dischi normali e l'ultimo l'ultimo il disco quello con il materiale d'attrito più grande una volta fatto questo ovviamente il perno già l'avete messo dovete chiudere quindi ricordiamoci del segno e rimettiamo ricordate anche questo punto qui va a toccare l'asta della flangia spingi disco perché l'asta quando noi poi pigiamo la leva della frizione ovviamente azioniamo il pistone che va ovviamente a spingere l'asta che l'asta spinge questo piatto che solleva la frizione solleva i dischi della frizione una volta arrivato qui vedete che calza perfettamente segno con segno se lo mettete sbagliato ok nella maniera sbagliata sarete in questa condizione come vedete c'è un gap ok guardate bene non va bene quindi rimettiamo al segno eh perfetto fino a qua tutto chiaro rimettete ovviamente le molle e le loro perni una volta messi questo i perni vanno tirati a 10 newton cosa verificare quando uno smonta la frizione vi mando anche in foto le tolleranze verificare la la lunghezza delle delle molle perché col tempo perdendo di elasticità si diventano più corte potrebbero diventare più corte come ho detto prima se ci sono dei danni o dei difetti verificare anche i cuscinetti perché qua ce n'è uno se si sentono rumori strani mentre voi girate ok per il disco di frizione ovviamente c'è la tolleranza quindi lo spessore se supera la tolleranza verranno sostituiti o anche se ci sono dei difetti sul sul disco cioè parte di materiale mancante vanno sostituiti così come sui dischi conduttori messi su una parte piana in questa maniera o su un piano di riscontro verificare se sono deformati o se hanno dei segni particolari su tutta la corona bene questa è per la brutale 1090R o anche la 990R per quanto riguarda invece la frizione che ho montato io che è della F4000RR vi dico che io non ho avuto problemi nel montarla perché i codici coincidono con quella della 1090R quindi vi faccio vedere subito lo smontaggio ovviamente io non ce l'ho qui però vi posso dire cosa fare e che dischi vanno messi quindi ovviamente si leva la flangia spigidisco si levano tutti i dischi nuovamente o in questo caso nella frizione della F4000RR il mozzo portadischi è composto da due parti il mozzo portadischi è la flangia di trascinamento mentre il mozzo al suo posteriore porta tre cuscinetti che aiutano proprio a staccare la frizione il famoso sistema antisaltellamento quindi sarete in questa condizione quindi prenderete la flangia che è staccata dal mozzo portadischi e la poserete quindi la metterete qui metterete ovviamente il mozzo portadischi dove è la differenza la differenza sta nel numero di dischi e di come vengono messi bene arrivati a questo punto ovviamente troverete delle molle da dover mettere sono due mollette messe in maniera sono delle molle che hanno tre diciamo linguette quindi messe in maniera incrociata diventano sei quindi vanno messe in questa posizione tre qua e tre qua vi faccio vedere la foto troverete anche le colonnine che fanno parte della flangia di trascinamento e vanno strette a 4,5 newton però normalmente sono già messe io li trovate già originali già fatte perché era frizione usata arrivati a questo punto prendete la rondella la mettete a differenza della 1090 R la rondella non va torta quindi prendete il dado ovviamente prendete nuovamente l'attrezzo lo fermate e di nuovo 140 newton a differenza della 1090 R non va messo il frenafiletti quindi poi andiamo a mettere i dischi troverete inizialmente il disco con il materiale il componente d'attrito più largo quindi va messo per prima ovviamente i numeri poi il disco conduttore successivamente successivamente vanno messi i famosi rasamenti come per la 1090 va messo prima quello flat e poi quello con la parte diciamo curvata verso il motore successivamente va messo l'anello con il diametro più largo e nuovamente un disco conduttore successivamente andremo ad alternare sette dischi normali con i dischi conduttori ok io non ce l'ho però l'ultimo disco sarà quello che con il materiale d'attrito maggiore quindi arrivato a questo punto potete mettere di nuovo la flangia spingi disco che è differente da questa anche questa anche quella lì avrà la sua il suo cuscinetto e ovviamente qui ci sta un un tappo chiamiamolo così questo qui che va a appoggiarsi proprio esattamente sull'asta spingi disco quindi andremo a metterlo a differenza della brutale 1090R la flangia spingi disco della 1090RR o della F4 1000RR ha delle sotto qui ha delle piccole come dire ecco qua ci sono per esempio rondelle sono a forma un po' elittica chiamiamolo così a forma elittica e vanno messe in una certa posizione vi faccio vedere anche la foto di questa quindi vanno messe all'interno ok vanno adagiate all'interno e dopo va messa la molla successivamente l'altra rondella e quindi poi finale il perno e anche questo va avvitato a 10 newton ok si fa così per tutte e 6 bene ragazzi cioè una volta fatto questo anche la frizione io ho fatto così la frizione della brutale 1090RR è completata quindi ho fatto un bel upgrade e vi dico che sono rimasto molto soddisfatto anche perché il lavoro si è fatto in un paio di ore con calma ragazzi spero che il video vi sia piaciuto in descrizione troverete le tolleranze e le coppie di serraggio si è d'aiuto a molti e abbia levato qualche dubbio come l'ha levato a me quando volevo fare l'upgrade e non sapevo se prendere la frizione corretta o no quindi adesso ho scoperto che quella della 1090RR è uguale alla frizione della 1000 F4 1000 RR chiaramente parliamo di motori post 2010 perché la mia moto è del 2013 ok post 2010 se vi è piaciuto ovviamente lasciate un mi piace commentate qui sotto e ovviamente discutiamone ciao ragazzi alla prossima ciao